Salve a tutti quanti, sono Fraccio, sono da G44 e oggi, mentre ero in gita Tallinn, guardate cosa ho trovato è un espresso delle carrozze russe è incredibile, è un invio di carrozze russe sono poche carrozze, ma sono carrozze russe è incredibile vero, è incredibile, ci sono le carrozze russe è un invio spettacolare, invece raggiù siamo a Tallinn, abbiamo fatto un altro viaggio è un attimo, invece qui c'è, dirà invece c'è la davanti a noi cosa c'è? cosa c'è davanti a noi? l'isola di? guarda quella Helsing, va bene no, non posso girati non posso, devo fare le riprese che dire e poi verrà un video che verrà caricato non so quando è davvero, davvero fantastico vedere delle carrozze russe che non le ho mai viste, vabbè il video finisce qua e ciao a tutti ciao 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 ciao